Il Ripalimosani travolge il Trivento nel derby molisano di calcio femminile di serie C. Le ragazze del Ripalimosani nel prossimo turno sfideranno la capolista Audax Palmoli. A riposo invece i Trignini. Vediamo il contributo. Mister, come ha visto la gara? Niente, sapevamo che la partita sicuramente era delicata. Era un derby, definiamolo così, quindi la partita doveva vincere chi ci credeva di più e chi lottava un po' di più. Noi forse l'approccio iniziale non è stato dei migliori. Solo questo è un piccolo appunto alle ragazze. Poi piano piano le ragazze sono entrate in campo e abbiamo giocato, purtroppo avevamo già compromesso il risultato. Quindi comunque stiamo lavorando per migliorarci, perché comunque abbiamo iniziato tardi, anche rispetto alla squadra avversaria. Quindi sono convinto che con il tempo i risultati arriveranno ancora meglio e la classifica ancora ci dice che possiamo stare lì a lottare fino all'ultimo momento. Faccio comunque un applauso alle ragazze. Partire da questo, fare l'esperienza e non sbagliare più una partita del genere come approccio più che altro. Però come impegno poi alla fine c'è stato e sono comunque soddisfatto. Un applauso va comunque all'avversario. Le conoscevo, sono state brave, hanno creduto un po' di più e quindi va bene così. La prossima abbiamo riposo, poi abbiamo la prima in classifica, l'Audax, quindi ci preferiremo al meglio per affrontare questa partita nel miglior modo possibile. Come hai visto la partita? L'ho vista, abbiamo giocato benissimo. Dal primo minuto abbiamo preso ogni pallone, lottato per ogni pallone e procediamo sempre per il meglio. Ho visto molto determinata la vostra squadra rispetto al trivento. Sì, eravamo molto concentrate, sentivamo la partita, non abbiamo mollato nulla, non abbiamo concesso nulla, direi perfette. Testa la prossima partita perché c'è ancora da fare, il campionato è ancora lungo, però possiamo fare moltissimo ancora. Avevamo tre punti più tre, adesso penso sei. La prossima partita con l'Audax, sempre in casa, ce la giochiamo perché come si dice il pallone è tondo, quindi testa la prossima partita.